Siamo con Macellari dell'Unicredit, una vittoria per 1-0. Che partita è stata? È stata una partita molto intensa, il primo tempo siamo entrati super concentrati e abbiamo subito messo in campo le nostre capacità. Il secondo tempo i cambi hanno fatto sì che il risultato venisse da noi. Difficile, avversario intenso. Sì, un primo tempo all'attacco, un secondo tempo in difesa. Forse anche complice il gol dopo due minuti a inizio secondo tempo. Era una partita che avevamo preparato in questo modo oppure è una tattica adottata alla gara in corsa? No, no, è una partita che non avevamo preparato in questo modo qui, però poi dopo il gol all'inizio del secondo tempo ha fatto sì che ovviamente loro spingessero un pochettino di più. Quindi noi abbiamo rinculato forse un po' troppo, quello che non dovevamo fare. Quindi questo ci deve servire per le prossime partite. Comunque buoni tre punti, allora in bocca al lupo per le prossime partite. Grazie.